Giovanni Pascoli, narratore dell'Avvenire, poesia, cronaca, inversi dell'attualità. Questo è il titolo dell'interessante iniziativa promossa dalla Fondazione Pascoli di Castelvecchio e che mercoledì 7 ottobre ha portato a Barga di incontrare ragazzi delle scuole superiori, la giornalista e scrittrice Chiara Lico. L'evento era l'incontro conclusivo del Festival Lucca Autori. La giornalista ha parlato del mondo di Pascoli, visto attraverso gli occhi di una professionista della comunicazione. Chiara Lico si occupa di cronaca ed attualità. Dal 2010, alla conduzione del Tg2, ha debuttato come scrittrice nel 2007 con Zitto e Scrivi ed ha pubblicato diversi libri che trattano temi dei giorni nostri. L'incontro con i ragazzi dell'ISI di Barga è stato costellato di tante domande ed ha visto anche gli interventi di Maria Bruna Caproni, presidente onorario della Fondazione Giovanni Pascoli, e di Demetrio Brandi, presidente di Lucca Autori, oltre che del sindaco di Barga Caterina Campani e della dirigente scolastica dell'ISI Barga, Iolanda Bocci. Il dibattito con la Lico è stato un bel momento e la giornalista ha dimostrato di sapere interroquire la perfezione con i giovani. Partendo dal Pascoli legato all'immigrazione, ha fatto poi un escursus che in vari passaggi ha permesso mano a mano di parlare dell'oggi, dei temi di attualità che interessano i giovani, arrivando anche al coronavirus e a quanto è inciso sulle nostre vite. In conclusione, invece, la presentazione del suo ultimo libro, Il rischio, ispirato alle vicende di un'associazione dell'Internand napoletano che incoraggia i ragazzi a tornare a scuola attraverso l'arte circense, un libro che parla ai giovani.